Un buon pomeriggio ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A1 l'area di servizio di Montepulciano Est in direzione Bologna è sprovvista di GPL per lavori. Sulla A12 segnalati materiali dispersi nel tratto tra Massa e Versilia in direzione Livorno. Sulla corda autostradale Siena-Firenze restringimento di carreggiata in corrispondenza dei riadotti Filinelle e Molinuzzo tra Poggi Bonsi e Tavarnelle. Sulla regionale Due Cassia per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di in pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.